Cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Monica Pelliccia. Apriamo con la 1 in direzione Bologna, 2 km di coda per incidente, tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta e rallentamenti per traffico intenso, tra Calenzano e la variante di Valico. Passiamo alla FIPILI, dove ci sono rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino per lavori, e sempre in direzione Livorno segnaliamo rallentamenti tra Empoli Est e San Miniato. Ed è chiusa l'uscita di Tirrenia, provenendo da Firenze. Prima di salutarci, passiamo al raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori, tra San Casciano Nord e Intruneta in direzione Firenze. Trovate tutte le informazioni sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!